Le Hawaii contro il nuovo Muslim Ban, voluto da Donald Trump, è il primo Stato del Paese a presentare un'azione legale. L'obiettivo è avere un'ingiunzione restrittiva temporanea per impedire al divieto di diventare operativo, fino a quando la causa legale non si concluderà. Per i procuratori, questo bando ha gli stessi difetti costituzionali del precedente. Si tratta essenzialmente ancora di un divieto generale, che impedisce l'ingresso a persone che provengono da diverse nazioni, che prima erano sette. Il problema più grande è che vengono discriminate le persone in base alla loro nazione di origine o alla religione. Un'udienza è prevista il 15 marzo. Il giorno dopo dovrebbe entrare in vigore il divieto, che blocca i nuovi visti per i migranti provenienti da sei paesi a maggioranza musulmana, escluso l'Iraq. Le Hawaii avevano già fatto causa in occasione del primo bando voluto da Trump, che è stato poi bloccato da una corte d'appello.